Nella notte sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelmassa, in provincia di Rovigo, per domare un incendio scoppiato nel parcheggio di un'area condominiale a Sermide Fellonica, in provincia di Mantua. Le fiamme hanno completamente divorato un'auto che era parcheggiata, fiamme altissime e pericolose per le abitazioni vicine. Gli operatori hanno domato il grande rogo e sono stati raggiunti anche dai colleghi del distaccamento vicino per mettere in sicurezza l'intera area. Sul posto i carabinieri per l'accertamento sulle cause dell'incendio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.